Amici e amiche salve a tutti e ben ritrovati come sempre nel canale Oggi andiamo a fare quella che secondo me è il top delle modifiche per il nerf Andiamo a lavorare infatti sul cilindro Andiamo a ottimizzare tutti quelli che sono gli spazi morti All'interno della parte dove ovviamente avviene la compressione dell'aria Che poi ci va a sparare fuori i nostri dardi Andiamo a eliminare un'area vuota che renderebbe il proiettile più lento E per far ciò utilizzeremo semplicemente una pistola di colla a caldo Con la quale andremo a colare, a riempire quello che è lo spazio che già abbiamo fatto vedere nel video precedente Che vado a pubblicare, vado a postare alla fine di questo Nel tappino del cilindro Questo è il nostro cilindro, questo è il tappino E proprio questo spazio, questo volume d'aria che rimane utilizzato E ciò che in realtà ci fa rallentare i colpi Quindi abbiamo una grossa limitazione progettuale E noi andiamo a eliminare proprio questo limite Lo facciamo anche utilizzando questo tubicino di plastica Vi occorrerà un tubicino di circa 10-11 mm In relazione chiaramente a quello che è la finestra Che rappresenta la transfer port Dalla quale l'aria passa in direzione del proiettile Questo tubicino ci occorrerà proprio per andare a costituire Un non riempimento Lo andremo ad apporre qui sopra Proprio nella parte interna E dopo aver inizialmente assicurato il posizionamento L'orientamento del nostro tubicino Poco a poco poi andremo a riempire il tutto Devo curare di far ricadere la parte superiore La parte che arriva proprio qui al limite del tubicino Più o meno attorno al centro Vedete così Nonostante la transfer port sia leggermente spostata Sulla circonferenza E non tanto centrata Questo perché? Perché poi Quello che maggiormente mi interesserà Sarà l'utilizzo di questo foro centrale Dal quale l'aria compressa dal pistone Dovrà obbligatoriamente passare Perché chiaramente queste quattro porzioni Che vedete attorno al foro centrale Attorno al crocino Non saranno più funzionali Proprio perché con il riempimento Andranno a essere bloccate Quindi nel caso ci sarà anche la possibilità Eventualmente di allargare questo foro centrale Semplicemente con una punta di trapano Visto che non ci occorrerà più Questo bordino Per l'alloggiamento della molla E state in campagna Vediamo un attimo come andiamo a fare il tutto Un'operazione abbastanza semplice Ci vuole semplicemente un po' di pazienza E poi vi faccio vedere anche come andare a estrarre Il tubicino Una volta che la colla a caldo Si va a solidificare Perché ovviamente resterebbe incollato Bloccato nel nostro tappino del cilindro E andare a tirare Insomma si rischierebbe semplicemente di andarsi a tirare Tutto quello che si è attaccato Ma c'è un sistema C'è un trucco molto pratico Ed efficace Che appena finiamo di fare il tutto Vi mostrerò Azione Bene La mia pistola di colla a caldo Sembra che sia arrivata in temperatura Già intravedo una gocciolina Quindi vado a posizionare Il mio tubicino sulla transfer port E vado a dare una prima goccia di colla Che mi serve unicamente Per bloccare In maniera orientata Quello che è il mio tubicino Ok? A questo punto devo ovviamente attendere Che si solidifichi Magari ci posso anche soffiare di sopra Per Affrettare un pochino Il raffreddamento L'indurimento della colla Della goccia di colla Che ho appena messo Ci siamo quasi Magari già che ci sono Ne vado a buttare una anche dall'altra parte E ci diamo un pochino una mossa Ok Se non volete proprio aspettare Lo mettete sotto l'acqua E guadagnate tempo Anche se poi insomma Mettendolo sotto l'acqua Sì la andate a raffreddare rapidamente Però poi ve lo trovate bagnato E lo dovete andare a rasciugare Quindi Tanto vale aspettare Ok? Già si sta solidificando Il tubicino è messo Nella posizione corretta A questo punto Non mi tocca fare altro Che riempire Non vi preoccupate Se avete qualche Sbavatura Di un po' di colla Che va fuori Poi tranquillamente Ci sarà la possibilità Di andare A ripulire il tutto Magari aiutandosi Con un coltellino Proprio per andare a Anche limare I pezzi Che Le sbavature Più che altro Questa fase Fate semplicemente Attenzione A non bruciacchiarvi Le dita Perché Anche se non è una cosa Particolarmente Pericolosa Non è assolutamente Piacevole Ok? Ora Tutto quanto il pezzo Tende ad essere Caldo Staremo attorno Tranquillamente All'ottantina Di gradi Considerate Che la temperatura Della colla fusa È largamente Superiore A quelli che possono Essere 80 gradi E Non è piacevole Farselo cadere Addosso Ok Ora Sono arrivato Proprio al livello Ok Non so se si Deve Per vedere Metto un pochino Fuoco Vedete L'ho riempito Tutto Tranne Il mio tubicino Che resta In posizione Centrale Al momento Non ve lo posso girare Perché ancora La colla È particolarmente Calda e liquida Qua Ora vedo Che ancora Ne manca Una gocciolina Ok E la cosa buona È che pian piano Insomma Essendo ancora calda Si va Livellando Da sola Non vi preoccupate Se fa un po' Di effetto Come dire Pancia Questa è la Quello che in fisica Si potrebbe definire Forza di coesione Molecolare Ovvero Quando voi Riempite Particolarmente Un bicchiere E vedete Che andate Proprio Oltre il bordo Del bicchiere Si forma Una bombatura Con l'acqua Stessa Sul bordo Del bicchiere Ora Questo È dovuto Alla forza Di coesione Molecolare Le molecole Che si attraggono In questo caso Un pochino Avviene anche Per La colla A caldo Poi bisogna Vedere Se questa colla Ha un minimo Di ritrazione Nel momento In cui Si raffredda Ma fondamentalmente Ripeto Non ci sono problemi Poi andremo a fare I nostri Aggiustamenti Con la colla Che si è raffreddata Il tutto sarà Estremamente Malleabile Proprio perché Si tratta alla fine Sempre di una Plastica Abbastanza Tenera Da Lavorare Quindi Ora Sto abbondando Nel Nel materiale Che sto apportando E man mano Si rivela da sola Ok Quindi Non ci resta Altro Che aspettare Quei Tranquillamente 5-10 minuti Affinché Tutto quanto Arrivi a temperatura Ambiente Dopodiché Vi faccio vedere Come Si andrà Facilmente A estrarre Anche il tubicino Benissimo Ho atteso Naturalmente Che si Raffreddasse Il tutto Dopodiché Ho messo Tutto quanto Il nostro tappino Con la colla Nel congelatore Questo perché Perché Il La colla A caldo Tende a Quasi cristallizzarsi O potrei dire Diventa molto Molto dura Al contrario Quello che Il tubicino Di gomma Non si Indurisce Così tanto Come la colla E quindi Adesso Con una semplice Pinza Andando a Comprimere Il tubicino Vedete Le pareti Del tubicino Di gomma Che mi Serviva Unicamente Come Distanziatore Si Possono Staccare In maniera Abbastanza Agevole Ok Piano Piano C'è Da Giocarci Un po' Muovendo E Torcendo In questo Modo Si va Staccando Ok Lo vado Torcendo Poco a Poco Poi Sempre Di più Ecco E' successo Quello che Non doveva Accadere Che si E' Troncato Di dentro Non fa Niente Semplicemente Semplicemente Mi toccherà Lavorarci Un pochino Più su Ma con una pinza A becchi lunghi Il problema Tutto sommato Non sussiste Vedete Ancora posso Manovrare La cosa Ecco Ora Rendiamola Più efficace Andando a Lavorarci Con un Cacciavite E staccando Le pareti Del mio Tubicino Che a questo punto Lo posso anche Tagliare Voilà E ci vado A lavorare Un pochino Su Con questo Cacciavite L'obiettivo E' semplicemente Staccare Il mio Tubicino Da quello Che è tutto L'agglomerato Della colla Che si è creato E lasciare Chiaramente Lo spazio vuoto Ok Piano piano Ci sto arrivando L'impedenza Sta nel fatto Che Ho Abbondato Vedete C'è un Un rilievo Ho abbondato Particolarmente Con quella Che è la colla Che ci sono andato A mettere E forse Se lo vado A spianare Mi viene Più facile Cerco di non Farlo In prima Battuta Perché Chiaramente Con l'inserimento Del cacciavite Un pochino Tutto quello Che è la parte Superiore Della colla Si va Ammaccando Si va Deteriorando La parte La parte Superiore Io poi La rimuoverò Quindi Non mi preoccupo Di questo Però Voglio cercare Di fare Un lavoro Quanto più Pulito Possibile Ecco Mi sembra Che poco A poco Stia Uscendo Sì Vedete Ora Man mano Che Il tutto Si raffredda Perché Scusate Si riscalda Torna A essere Particolarmente Attaccato Ma Ce la dovrei fare Siamo partiti Chiaramente Da un meno 15 Un meno 20 gradi Dai che ce la fai Come dice Gianni Morani Dai Dai che ce la fai Ok Continuiamo Con la nostra Bella pinza Mi pare che ce l'abbiamo fatta Voilà Fantastico Ecco fatto Vedete Alla fine Abbiamo ottenuto Il nostro Corridoio Per l'aria Adesso Tutto quello Che dobbiamo fare Che è poi La cosa più Pericolosa E con un cutter Andare a Togliere Il materiale Che sta di sopra Quello che Crea Il rilievo Attenzione Alle mani Chiaramente Per questo È la parte Più pericolosa E molto Molto Delicatamente Andare a Rimuovere L'eccesso Piano 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 Non facciamo Finire questa Modifica In un bagno Di sangue Voilà Vedete Aspettate Ecco Il lavoro È venuto Molto 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 Pulito Ora A voi La scelta Ci sarebbe La possibilità A questo punto Volendo Anche Di rimuovere Questo Traversino Rimuovere Questo Traversino Si e no Si e no Io Ne rimuoverei Giusto Una parte Solo una parte Perché Perché poi In quello Che è Il canale Anzi no Io non Rimuovo Proprio nulla Il guadagno Già ci sarà Proprio con Questa Modifica Quindi Una volta Che vado Poi A Inserire Il mio Tappino Problemi Non ce n'è Più Volendo Si potrebbe Anche creare Un filtro Visto che Abbiamo Rimosso Questa Valvola Il filtro Lo potremmo Fare Semplicemente Con una spugnetta Ora Vado a tagliare Già che ci sono La spugnetta A misura Non deve essere Né troppo piccolo Né troppo grande La porzione Di materiale Che andiamo A tagliare Questa è una Comunissima Spugnetta Per piatti Ovviamente Vi consiglio Di usare Una spugnetta Nuova Perché così Insomma Non ci sono Residui Di olio O comunque Gli alveoli Della spugnetta Risultano Assolutamente Non schiacciati Quindi passa Tutta l'aria Di cui Abbiamo bisogno E una volta Ridotta Così Ecco La vado A tagliare Ulteriormente Giusto questa Piccola porzione La si può Usare Come filtro Da mettere Qui Vedete In questo modo Visto che abbiamo Rimosso Questa valvolina Ci troveremo Sì Un filtro In questo punto Anche questo Lo andiamo A tagliare A misura Ora una forbice Qui non ce l'ho Proverò Con questa piccola Tronchese Ripulirmelo Lo arrotondo Un poco Lo arrotondo un poco Dovute a polvere Qualsiasi altra cosa Che gravita Nell'ambiente Viene trattenuto Da questo piccolo Filtrino E a questo punto Si va a richiudere Il tutto Così Si schiaccia E il gioco È fatto Quindi Prima modifica Andata In porto Se volete Potete Allargare A lesare Questo foro Centrale Io direi Che non ce n'è Nemmeno Troppo bisogno Perché In base a quello Che è questo foro È l'apertura Qui Diciamo che I diametri Corrispondono Quindi Ritengo Che questa modifica Già sia A buon fine Ok Con questo è tutto Amici Io vi invito A effettuare La descrizione Al canale Dopodiché Seguiremo Con altre modifiche Sempre Sul Cilindro Ma a questo punto Andremo a lavorare Sul pistone Non andremo a utilizzare Questo tipo di colla Perché Per il riempimento Del pistone Non va bene Perché Con tutti i colpi Che riceve Si andrebbe a staccare Anche perché Con un minimo Sbalzo termico Anche di 5-10 gradi Questa colla A caldo Tende sempre A staccarsi E visto che Questo è un organo In movimento Assolutamente Non è indicato Quindi Ragazzi Iscrivetevi al canale Commentate E ci becchiamo Quanto prima Un saluto Ciao Ciao